Ciao ragazzi, benvenuti e benvenuti nel canale, io sono Magnus, ritorniamo sempre qui con Star Wars Battlefront 2, partite multiplayer, me le state chiedendo, io ve le porto e soprattutto oggi ci andiamo a vedere un nuovo personaggio, soprattutto perché ho sbloccato Darth Vader, sono curiosissimo di provarlo e di analizzarlo bene perché sembra forte ma non lo so ancora, ho posizionato soltanto una carta ma poi piano piano fatemelo potenziale. Naturalmente ho passato un video con un salvatore, un bel commento, un vi piace, ci buttiamo nella partita e vai. Ok dai che siamo tra i malvaggi e finalmente, dico finalmente, ma che è migliorata la grafica. Ok, questi però sono veloci, sembrano quasi più assortiti di noi. Ok, continuo sempre a dire che la cosa migliore sarebbe riuscire a giocare sempre insieme. Ecco di là, stanno di là, stanno di là, stanno di là. Vai, vai. Ok, ok, ok. Ah, l'avevamo quasi fregato eh però. Che peccato. No, chi lo cambia il personaggio? Dobbiamo soltanto cercare di capire bene come fare. Che peccato che... Il nostro amico non è rimasto dietro. Dai, dai. Ok, non corre. Ah, ok. A volte sembra come se non corresse. Attenzione. Ok, vai. Dai, dai, dai. Ancora l'ho beccato. L'abbiamo ammazzato, l'abbiamo ammazzato, vai. Andiamo, 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 andiamo. Dove stanno? Ok, ok. Dai, dai, che grande è. Aspetta, aspetta. Soltanto che è un pochettino lento con la spada. Ho sbaglio. Che stai? Venegando? Ok, vai. Aspetta, vai. Ma porca miseria, c'è una puntata a mare. Dai, che ce la possiamo fare. Mi sbaglio? Dart Vader lo vedo un pochettino lento, eh. Rispetto agli altri. Non so, non vorrei che fosse tipo una mia impressione. Vai, dai. Vai. Ah, eh, purtroppo non ce la faccio così. No, non cambiamo personaggio, mi piace, mi piace. Dai. Perché se ne è andato, è un solo. Dai, che ce la possiamo fare. Dove state, ragazzi? Dove state? Eh sì, ragazzi, io la vedo lento a Dart Vader. Non so se è una scelta giusta. Stanno sopra, stanno. Dove andiamo? Dopo riesco a saltare acqua. Che palle. C'è l'ascensore. Vai. Andiamo. Assa di qua, attacca, attacca. Dove sta? Non lo dico, eh. Ok. Aiaiaiaiaia. Non me ne so accorto che stava là, eh. Vi dico la verità, eh. Ah, misera. Ok, l'abbiamo rimiato, l'abbiamo rimiato, eh. Oh, porca miseria, ma... Iota è piccolino. Eh, dai. Ci ha fregato. Eh, fino a quando ce l'abbiamo alle spalle non possiamo fare una mazza, eh. Purtroppo, questo è quello che riusciamo a fare meglio. Ti dico, sempre lo stesso, se riescono a difendermi anche da dietro. Ok, sta qua dietro. Dove sta, dove sta? Ok, là ce ne sta, uno alle spalle, vediamo se la riesco a beccare. Maestro. Yes, master. Rise. Aspetta, vai, che questo lo becchiamo, vai. Te l'abbiamo sbecchiata subito, hai visto? Dai. Che la lanciamo e la freghiamo. Forza, 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 vai. Dai che stai là, vai. Dai. Dai. Aspetta. Dai che ce la faccio con la presa, con la presa ce la facciamo. Dai. Ok, eliminato, eliminato. Grande, grande, grande. Credo che ci sia anche qualcun altro qua, eh. Aspetta che se riusciamo ad andare insieme è meglio. Versaglio. Versaglio, avvistato. Ok. Ah, ce ne sta uno là sopra, eh. Però è dei nostri. Aspetta. Vai, vai, vai. Sempre convinto che Yoda sia... A parte velocissimo, ma poi... Fregato, fregato, fregato. Grande, ragazzi, grande. Se giocavamo insieme siamo fortissimi. Ah, ma fregato. Grande. Ok. Grande, ragazzi. Yoda è difficile, sapete perché? Perché è difficile... È difficile da individuare. Come stiamo giocando? Direi non male. Siamo sempre i primi della squadra, eh. Dai, 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 dai. Andiamo. Ok. Com'è andata? Vittoria. Allora, Darth Vader... Ni. La mappa è bellissima, però, eh. Ni perché è molto lento. Ma molto, molto lento. Vi dico la verità. Siamo andati bene, penso, eh. Perché... Ah, no. Non siamo arrivati i primi. Porca miseria, no. Siamo arrivati i secondi. Ah, che pecchiato. Pensavo di essere andati molto meglio. Invece, no. Quanti punti ha fatto? Aspettate. Ah, 12.000. Oh, per poco. Per 200 punti non siamo arrivati i primi. Vabbè, dai, non fa niente. Però abbiamo giocato bene. 11 uccisioni l'abbiamo fatti comunque sempre allo stesso modo. Ok, ragazzi. Anche questa parte termina qui. Allora, mettetevi un passato. Vi dico come se vi mette un bel bacio su. Un bel commento. Un bel vi piace. Fatemi sapere la vostra. Noi ci vediamo al prossimo video. E bye bye.